Ben ritrovati amiche e amici, domani potrete leggere l'eco di Acquaviva con gli approfondimenti sulle notizie di questo editoriale. Alcuni argomenti rilevanti per la città di Acquaviva delle fonti, anche se quello di cui vi parlo in apertura riguarda l'Aro Bari 5, quindi più comuni. Cosa è successo? Camassambiente S.P.A. ricorre in persone dall'amministratore delegato, la quale agisce in proprio e come capogruppo mandataria del costituendo raccruppamento temporaneo di imprese con le imprese Pontrelli, Ambiente Ecologia S.R.L. e Catucci S.R.L. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del 3 novembre 2015, il numero 15, disponente l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di igiene urbana dell'Aro Bari 5. Quindi, istanza di sospensiva, scrive il legale, perché il ricorso è assistito da idonio fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, si rappresenta come la concessione della sospensiva sia l'unico strumento per tutelare efficacemente la posizione della ricorrente che ha il primario interesse a gestire l'appalto per l'intera sua durata, il che farebbe peraltro conseguire all'Aro Bari 5 anche un ingente risparmio, avendo Camassa Ambiente nella qualità in atti, offerto circa un milione in meno rispetto al RTCNS. Istanza di risarcimento danni in via principale si chiede la reintegra in forma specifica mercè l'affidamento dei servizi, previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto. In via subordinata si chiede risarcimento danni parametrato al mancato utile, al danno curriculare e dalla rifusione delle spese di partecipazione alla gara che si dettaglieranno specificatamente. Per tutto quanto innanzi, perché insomma parliamo di 25 pagine circa in cui è composto questo ricorso, per tutto quanto innanzi, scrive il legale, chiede che il Tar, in accoglimento del presente ricorso e previa concessione dell'invocata misura cautelare, annulli tutti gli atti impugnati meglio indicati in epigrafe con ogni conseguente statuizione di legge, compresa l'eventuale condanna al risarcimento danni, anche attraverso la reintegrazione specifica e la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, oltre al pagamento delle spese processuali. Questo ricorso è stato notificato ai comuni, quindi non solo all'Aro Bari 5, presso la sede comunale di Gioa del Colle e al Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative CNS in Bologna, alla COGEIR Costruzioni e Gestioni SRL in San Vito dei Normanni, all'impresa del fiume S.P.A. in Taranto, all'ecologia Falsarano S.R.L. in Airola, quindi dicevamo al Comune di Gioia del Colle, di Accoviva delle Fonti, di Adelfia, a Casamassima, a San Michele di Bari e Turi. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, rilevante per tutta l'Aro, ma soprattutto per il Comune di Accoviva delle Fonti, visto che gli amministratori avevano preannunciato la nuova gara, che una nuova azienda avrebbe gestito la pulizia delle nostre strade, i rifiuti e che quindi le cose sarebbero cambiate. Vedremo cosa deciderà il Tar. Ci giungono segnalazioni da parte di numerosi cittadini per quanto riguarda la pubblica illuminazione. In alcune aree della nostra città risulta essere insufficiente, non perché non esiste il palo, la lampada, ma perché quella lampada illumina, ci hanno cosiddetto se stessa. Fantastico, questa definizione è veramente simpatica. Il Centro Storico si è lamentato e più volte lo abbiamo portato alla vostra attenzione, quindi anche degli organi comunali preposti, della mancata accensione nelle fasce orarie utili e quindi che non solo dovevano subire i lavori, ma che diventava pericoloso uscire di casa perché non si vedeva ad un passo. E quindi è necessario evidentemente sollecitare gli organi comunali preposti, dove c'è un ufficio tecnico comunale che ha predisposto una gara, un appalto che se non ricordo male è in proroga ancora oggi, quindi andare a verificare se queste lampade devono essere sostituite, se così come dicono i cittadini illuminando loro stesse diventano obsolete, quindi perché hanno già lavorato per molte ore o se si devono semplicemente pulire queste strutture in cui le lampade sono allocate. Se questi pali della pubblica illuminazione devono essere verniciati, scartavetrati, insomma una manutenzione preventiva che deve essere fatta alla pubblica illuminazione, perché poi si rischia di fare lavori urgenti e straordinari e andare a sostituire l'intero palo, l'intera struttura, quanto invece sarebbe bene far rispettare, magari se è previsto, ma sicuramente l'ufficio tecnico lo avrà previsto, il capitolato in maniera tale che non si debba poi celebrare il funerale di quel palo, di quella lampada e poi andare a spendere più soldini. Cambiamo argomento, ma ritorneremo su questi non solo con l'eco di Acquavio, ma con degli approfondimenti della nostra redazione. Cambiamo argomento, la situazione politica e amministrativa della nostra città continua, ancora il tira e molla, allora o i due soggetti che fanno il tira e molla non si comprendono e quindi c'è qualcosa che non va di tanto forte che ci farebbe dire, c'è qualcosa che non va, trovate una soluzione, se non siete capaci di trovare una soluzione, quella radicale è dare a noi il potere di trovarla, ritornando alle urne, o la fune, la corda con cui stanno giocando a questo tira e molla è così forte, è più forte delle loro idee, dei loro caratteri, della loro rappresentanza che li consente ancora di stare a giocare. Quando si amministra una città come quella del Comune di Acquavio delle Fonte non si può continuare a giocare e quindi ci permettiamo di dire anche all'amico Roberto Tisci ci hai messo la faccia dicendo che subito dopo la festa dell'Immacolata, quindi subito dopo l'8 dicembre il problema sarebbe stato risolto con l'azzeramento che era stato richiesto al Partito Democratico, siamo al 9 dicembre alle ore 12 e non è ancora giunta nessuna notizia di questo azeramento. Ma i cittadini a parte tutte queste chiacchiere che risultano disgustati, che risultano proprio non ne vogliono più sapere di queste storielle, gli interessano i servizi, gli interessano le strade pulite, gli interessano le buche chiuse, gli interessano la pubblica illuminazione efficiente, gli interessano a un Comune che diminuisca le tasse diminuendo ed eliminando gli sprechi e ancora oggi questo non lo vedono, nel momento in cui una politica non è forte non ci può essere un buon controllo e una buona verifica rispetto agli organi dirigenziali, ai funzionari e ai dipendenti. I consiglieri comunali farebbero bene quindi ad andarsi a leggere gli appalti, il ricorso al TAR che è stato presentato, perché loro sono garanti di questi cittadini e sono soprattutto investiti di quel potere, di quella responsabilità che li costringe ad andarsi a leggere le carte, come dovrebbero essere costretti, i componenti della giunta esecutiva a fare eseguire le loro delibere e i contratti dell'ente precisamente tenendosi a quanto è scritto. Ritorneremo su questi argomenti e magari chiedendo la collaborazione di qualche consigliere comunale o di qualche tecnico, di qualche ingegnere esperto del settore. Penso che potremmo avere la disponibilità dell'ingegnere Giorgio, visto che è anche consigliere comunale di qualche componente della maggioranza. Ci piacerebbe ritornare ad ospitare qualche rappresentante del Partito Democratico per capire a che punto stanno le trattative, perché per quanto riguarda i cittadini altre segnalazioni, tutte e devo dire la verità sono all'unisono, sembra essere una farsa questa dell'azzeramento, sembra essere una farsa questo del problema tra Partito Democratico e altri componenti della coalizione. Fate subito ragazzi, fate subito il Natale vicino, grazie.